Comunque credo che a questo punto sia necessaria una prospettiva di collaborazione con tutte le istituzioni e con certezza di tempi. Questo è il problema principale che io da italo-svizzero sto imparando a conoscere in Italia. I tempi in Italia, la burocrazia in Italia è il problema incredibile che tutti coloro che vengono dall'estero devono subire e purtroppo è difficile farlo capire come sto cercando di capirlo io stesso. I tempi certi è un problema che possiamo solo cercare di far capire che bisogna comunque rispettare le regole, bisogna comunque rispettare le leggi vigenti in Italia, ma ci sono senz'altro dei modi per facilitare un ingresso importante, anzi direi importantissimo per la città, giacché siamo a un punto molto importante che senza l'aiuto e non lo escludo che deve essere solo per forza estero perché i discorsi che sto facendo li sto facendo anche con soggetti italiani, soggetti senesi e non, romani, senza poter far nomi perché in questo caso qui non ho avuto l'autorizzazione di darvi dei nomi per quanto riguarda la partecipazione degli italiani che potrebbero entrare nella Robur, ma sto lavorando a tutto campo sia internazionale che nazionale per portare i presupposti per avere un grande Siena prossimamente. Quindi dicevo che la burocrazia spaventa e questo è una cosa che veramente ho bisogno di aiuto, ho bisogno di aiuto e spero che venga condiviso dalle istituzioni, che solo in questo modo riusciamo a fare in modo che nessuno ci scappa, perché le opportunità sono adesso e non chissà quando. Grazie.